Cari amici di Teleischia, buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Caleidoscopio. Questa settimana nessun ospite qui in studio al mio fianco perché la puntata di questa settimana è una puntata itinerante. Tanti gli argomenti dei quali ci siamo occupati a partire dal documentare la intitolazione del piazzale nel parcheggio del polifunzionale di Via Morgioni ad Ischia a Ginostrada, una intitolazione che è avvenuta dopo un incontro dei ragazzi del liceo Buchner con Peppino Fiordelisi di Emergency. Una mattinata intensa piena di tante cose, di tanti contenuti portati dai ragazzi stessi aventi a tema proprio la guerra e i suoi crimini che si è conclusa appunto con l'intitolazione del piazzale a Ginostrada. Allora il primo servizio che vediamo è proprio quello relativo a lunedì mattina. Vediamo. Con la dottoressa Alessandra Vuoso, direttrice e coordinatrice del Festival Storie, Archeologia e Narrazioni questa mattina al Polifunzionale per partecipare ad un evento importante, ovvero l'intitolazione di un piazzale ad un personaggio importantissimo come Ginostrada. Il Festival Storie e Archeologia e Narrazioni perde le sue connotazioni di evento temporaneo per diventare invece un'iniziativa culturale continuativa nel tempo e assolutamente inclusiva. Questa tranche del Festival che vede i primi tre incontri in questi giorni, quindi prima delle festività natalizie proseguirà anche una volta che gli istituti scolastici riapriranno a gennaio, nel corso dei prossimi mesi dunque ed è realizzata in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Ischia, il CEIC, Istituto di Studi Storici e Antropologici che realizza il Festival e soprattutto il Liceo Statale Giorgio Buckner, per cui questi incontri che sono aperti al pubblico hanno ragione di essere soprattutto per gli studenti, per i giovani. Oggi appunto noi abbiamo creato questo corollario intorno all'iniziativa della intitolazione di uno slargo a Ginostrada un'iniziativa che è stata fortemente voluta proprio dagli studenti del Liceo Classico e abbiamo cercato e costruito questo momento di incontro con Peppino Fiordelisi che è coordinatore d'Area Campania di Emergency che appunto in un momento importante di confronto con gli studenti racconta non solo della figura di Ginostrada ma dell'operato sostanziale e importante di Emergency nel mondo. Una fase nuova per un festival in continua evoluzione, un festival che si prepara probabilmente ad accompagnarci non dico per tutto l'anno ma sicuramente per un periodo molto più lungo rispetto a quello a cui siamo abituati. Assolutamente ci saranno, come anticipavo, diversi momenti di incontro nel corso dei prossimi mesi fino poi allo sviluppo della quarta edizione del festival perché nel 2022 appunto ci sarà la quarta edizione di questo festival che da piccola rassegna sta crescendo e vuole diventare comunque un momento di incontro e di confronto con non soltanto gli studenti ma un uditorio assolutamente ampio e vasto. Le tematiche sono non solo quella della storia e dell'archeologia come penso abbiamo imparato appunto a conoscere ma della narrazione in senso lato e delle storie quotidiane di ieri e di oggi. Con il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino questa mattina al Polifunzionale per un momento di incontro che precede un fatto molto importante cioè l'intitolazione di un piazzale, di un luogo anche legato alle energie dei giovani a Gino Strada. Allora io devo dire subito così come ho ripetuto nel saluto introduttivo istituzionale che noi come amministrazione siamo stati particolarmente contenti di poter aderire a una richiesta che è pervenuto dai giovani dal mondo della scuola di intitolare questo luogo alle spalle del liceo Buchner che è stato recuperato da una situazione di degrado negli ultimi anni intitolandolo a Gino Strada. Ho ribadito che questa intitolazione secondo me non deve essere incastonato in un quadro oramai retrivo di contrapposizione tra un concetto politico di destra e un concetto politico di sinistra ma è la scelta genuina, spontanea di una scuola, dei ragazzi di una scuola che hanno deciso di individuare in Gino Strada l'icona che in qualche maniera dovrà segnare il cammino della loro vita intesa come senso di servizio da rivolgere alla collettività, alla comunità e soprattutto senso di servizio verso coloro che vivono e respirano momenti di difficoltà. Gino Strada è stato un chirurgo, è stato un medico che ha dedicato la sua esistenza ad aiutare e sostenere i più deboli che venivano colpiti negli scenari di guerra andandoli a soccorrere e quindi a me piace vedere nella intuizione di questi giovani schitani la volontà di voler dedicare la loro vita ad aiutare chi si trova in un momento di difficoltà a vari livelli e penso che questo sia un bel messaggio che parte dal liceo Buchner nell'ambito del nostro territorio comunale. Veramente in pochissimo tempo hanno fatto una raccolta fondi tutta da sola e oggi venite ragazzi, venite tutti quanti, vogliono fare questa donazione ad Emergency. Salite, salite. Un applauso veramente bravissimo per stare. Grazie mille. Peppino Fiordelisi di Emergency qui ad Ischia per l'intitolazione di un piazzale a Gino Strada, il fondatore e il simbolo stesso di Emergency. Innanzitutto quanto è bello poter parlare di Gino con i giovani di un liceo? Allora sicuramente è bellissimo per noi anche se avremmo voluto fare tutt'altro. Io avrei preferito chiaramente che fosse venuto lui che è un amante di queste zone, che era un amante e purtroppo noi ne parliamo tutti ancora al presente. Però per me è un onore venire qui e parlare di Gino e soprattutto è un onore e devo ringraziare l'amministrazione comunale, i ragazzi, la preside, per aver preso questa decisione. I ragazzi hanno spinto, il comune è stato pronto ad accettare questa proposta. Non succede dovunque ma è un segnale importantissimo. Il fatto che abbiano spinto degli alunni, dei ragazzi in questa direzione significa, almeno dal nostro punto di vista, che c'è una speranza. Quanto ancora c'è da fare? Quanto dura è la battaglia che state combattendo al momento? È difficilissimo perché l'idea di emergency è che, come dicevo prima ai ragazzi, il diritto è un diritto se è di tutti, altrimenti diventa il privilegio di qualcuno. Come dire, più guardiamo verso il sud, più troviamo difficoltà. Il problema è che si è sempre sud di qualcuno e noi in questa zona lo sappiamo benissimo, nel senso che non si capisce perché non riusciamo ad essere al livello del nord, quando invece per essere un diritto, noi parliamo ovviamente della cura e della sanità, dovrebbe essere tutto allo stesso livello. Cioè io dovrei avere la possibilità di accedere alle stesse cure alle quali può accedere una persona che abita in un altro posto, ma nel mondo dovrebbe essere così. Quindi non ci dovrebbe essere un riferimento per un posto speciale, ci dovrebbe essere semplicemente il diritto per tutti di accedere alle cure gratuite e di elevata qualità. Il danno pratico di tutte le guerre dei nostri giorni è quello di colpire il 34% dei bambini. Il che significa che noi stiamo giocando con il futuro di una serie di paesi per interessi, per svariate ragioni, però questo non può funzionare così. Non ci può essere l'idea che ancora oggi si possano fare o immaginare o far finta di risolvere dei problemi utilizzando le armi. Poi è chiaro, c'è chi ha interesse a venderle, c'è chi ha interesse a comprarle, ci sono varie situazioni, però il discorso nostro di Emergency è che la guerra va semplicemente abolita. Quando Gino lo propose a noi come obiettivo di Emergency, diciamo che la reazione nostra fu, diceva bene, questa cosa non è facile, non è possibile. Ripensando a tutti questi anni che sono passati e quello che è cambiato, perché cambiano le cose fortunatamente, sappiamo che all'epoca una proposta del genere sembrava impossibile. Oggi è già molto più probabile che ci si possa riuscire, perché credo che tutti stanno prendendo, hanno preso coscienza del fatto che non è certo quello lo strumento per risolvere i problemi. Grazie. Apritevi, Assunta fai un passo indietro. Un po' più indietro. Vai, vai, vada, vada, vada. Ok, perfetto. Assessore, una mattina speciale qui al piazzale, ormai piazzale Gino Strada, a Via Morgioni, una grande emozione, soprattutto perché si tratta di un'iniziativa che è partita proprio dai ragazzi. Assolutamente sì, è partita dai ragazzi, subito dopo la morte di Gino Strada ad agosto, e nonostante i ragazzi fossero in vacanza, grazie all'impegno della Preside che ha accolto questa idea con grande entusiasmo, loro si sono messi all'opera per formulare questa proposta che noi come amministrazione abbiamo immediatamente recepito con entusiasmo e anche con orgoglio, voglio dire. Un bel segnale è anche quello di appoggiare il nome di Gino Strada per questo posto, anche probabilmente un segnale da voler dare alle giovani generazioni, un altro mito al quale potersi ispirare. Assolutamente, infatti questo l'ha detto Enzo Ferrandino, il sindaco, nell'intervento. Questo era un posto che fino a qualche tempo fa era degradato, è stato voluto fortemente all'amministrazione portarlo, diciamo, ad essere fruito soprattutto dai ragazzi con il campetto. E adesso l'intitolazione a Gino Strada per noi è un faro, qualcosa di forte che i ragazzi possono ogni giorno leggere e fruire. E per noi è importantissimo perché Gino è un esempio da seguire. Marco Trofa, questa mattina qui insieme ai tuoi compagni per questa iniziativa che avete fortemente voluto, c'è un piazzale adesso a Ischia dedicato a Gino Strada. Esattamente, grazie, siamo qui, ci stiamo prestando a terminare la cerimonia di inaugurazione del piazzale a Gino Strada. Una richiesta questa, quella che parte dal comitato studentesco. Nell'agosto scorso, dopo il peggioramento della situazione in Afghanistan e poi la morte di Gino Strada, ecco, noi come studenti, nonostante fossimo in vacanza, abbiamo sentito il dovere di fare qualcosa di simbolico che rimanesse, ecco, come monito per quello che è una tematica che non possiamo più dimenticare, quella della guerra. Perché Gino Strada? Un po' perché si è presentato subito in quel periodo in cui tutti quanti eravamo interessati a una tematica che sì se ne parla, ma che però poche volte, ecco, si fa qualcosa di concreto. Quindi, capito proprio sugli stessi social che usiamo per divertirci la notizia della scomparsa di Gino Strada, che lo ammettiamo, forse non tutti conoscevamo benissimo, poi le notizie a riguardo il suo operato, la sua vita, ci hanno commosso e abbiamo trovato in lui un paradigma da seguire, da imitare. Ecco che da qui... E avete anche poi, diciamo, raccolto una somma, un aspetto non di poco conto perché Emergency di questo vive. E proprio per questo è partita la nostra iniziativa, un'iniziativa che non poteva finire solo a un'intitolazione per quanto simbolica, ma soprattutto andava fatto qualcosa di concreto, che in pochi giorni, proprio di recente, abbiamo fatto partire una raccolta fondi, ogni liceale ha dato il proprio contributo e abbiamo raggiunto una somma di 1000 euro, che è considerevole perché permetterà di certo all'Associazione Emergency di fare attività positive e ne siamo contenti. La dirigente del liceo Buchner, la professoressa Assunta Barbieri, beh, quanto è bello vivere iniziative del genere quando poi sono proposte dai ragazzi stessi? È bellissimo perché questo fa sperare in cittadini sicuramente migliori, migliori di quello che io lo dico sempre, sicuramente migliori di quello che siamo stati noi. I ragazzi hanno mostrato una grandissima sensibilità nel voler ricordare questo uomo straordinario che ha dedicato la sua vita intera per portare le cure essenziali laddove sicuramente erano negate, in tutti gli scenari di guerra dove a pagare le conseguenze sono sempre i civili, soprattutto donne e bambini, infatti l'abbiamo sentito, un terzo di tutte le persone che loro hanno curato e che curano sono sempre i bambini, bambini, donne, civili, innocenti che si trovano al posto sbagliato, nel momento sbagliato, in posti dove purtroppo la guerra ancora oggi c'è. E chissà che non possa essere il nome di Gino Strada scritto in questo piazzale anche una piccola fonte di ispirazione per qualcuno di questi giovani. Sicuramente, io me lo auguro, io spero, anzi ci tengo molto perché anche a Isca c'è tanto da fare, c'è tanto bisogno di volontariato, l'emergenza, lo sappiamo, è un'associazione di volontariato. Spero che anche qui si impari l'importanza e il valore del volontariato e dell'aiuto del prossimo. Prima di salutarci, magari non ci saranno altre occasioni fino a Natale, gli auguri della dirigente ai suoi studenti e perché no anche al resto della cittadinanza? Gli auguri che sia un Natale, sembra scontato, ma sereno perché è importante soprattutto alla luce di tutto quello che sta succedendo e che purtroppo ci aspettiamo, adesso già sappiamo che non ci si potrà festeggiare magari come si vuole, ma non è ancora il momento. Purtroppo la pandemia non è finita, non è passata, ci difendiamo, continueremo a difenderci. Mi raccomando, prudenza, siate sereni, passate buone feste, ma soprattutto ricordatevi di mantenere sempre quei comportamenti responsabili perché noi questo Covid lo dobbiamo sconfiggere una volta per tutte. Buon Natale e buon anno. Il secondo capitolo della puntata di oggi di Caledoscopio è un capitolo che celebra ancora una volta l'anniversario della scomparsa di Pietro Greco, giornalista, divulgatore scientifico, docente universitario, giornalista, amico di questa emittente. Purtroppo il 18 dicembre scorso del 2020 è venuto a mancare dopo una puntata dedicata proprio qui a Teleischia al tema delle vaccinazioni, proprio a pochi giorni dall'annuncio, pochi giorni dopo l'annuncio della prossima emissione sul mercato, dei sieri che hanno cambiato la storia di questa pandemia. Però venerdì scorso a Napoli c'è stata la presentazione di un numero speciale della rivista Infiniti Mondi dedicata interamente a Pietro Greco. Il nostro Marco Altore ha realizzato questo servizio. Direttore, un numero monografico della rivista Infiniti Mondi dedicato alla memoria di Pietro Greco che ci ha lasciato giusto un anno fa. Sì, abbiamo pensato che in questo modo di dare il nostro piccolo contributo a tenere viva non solo la memoria ma a tenere vivo in qualche modo l'impegno, l'orizzonte al quale Pietro ha dedicato un'intera vita. Quell'orizzonte era l'orizzonte della libertà, della scienza, della sua autonomia, la diffusione della conoscenza, la conoscenza come strumento per i più deboli, per diventare più forti, per vedere riconosciuti i propri diritti. Pietro è stato questo, un instancabile costruttore di idee, di culture e di conoscenze, un instancabile diffusore di tutto questo, una figura straordinaria. Anzi, lavorando alla preparazione di questo numero, se fosse possibile, abbiamo sentito ancora di più la mancanza. E noi con questo numero proviamo esattamente, abbiamo chiesto a tantissimi suoi amici di raccontarcelo, lasciarci una loro testimonianza su Pietro. proviamo anche noi così, ad un anno appunto dalla sua scomparsa incredibile, proviamo a tenere viva non solo la memoria, ma la sua grande capacità di iniziativa e di diffusione della conoscenza. La rivista ha tanti contributi, tanti ricordi. Sì, alcuni bellissimi, quello di Bruno Arpaia, per esempio, suo grandissimo amico, grande scrittore e traduttore in Italia di autori spagnoli come Artur Perez Reverte o Carlos Vizafon, che è scomparso di recente. Un grandissimo intellettuale del nostro paese che gli dedica parole dolci, parole veramente straordinarie ad Alberto Diaspro, a Ugo Leone, nostro napoletano, grande ambientalista, a Roberto Besana, fotografo, suo amico, insomma tantissimi e poi abbiamo pubblicato in questo volume tutti i contributi che lui ha scritto in questi cinque anni di vita della nostra rivista. E poi Pietro chiaramente era un ischitano, sempre vicino ai problemi dell'isola, sempre presente sul territorio ed è una figura che io credo dobbiamo sapere apprezzare e ricordare ancora di più, che forse in vita non ha ottenuto tutti quei riconoscimenti che meritava. Qual è il suo ricordo personale? Il ricordo personale, quando ero segretario regionale dei DS, noi demmo vita con l'unità, un inserto campano dell'unità, l'articolo si chiama, per due anni uscì questo quotidiano allegato all'unità e lui lo diresse e ricordo quando ne parlammo per la prima volta, io poi lo conoscevo poco, io ho conosciuto Pietro in primo luogo attraverso gli articoli che scriveva sull'unità, poi l'ho conosciuto di persona, ero un po' intimorito da questa firma così autorevole, così prestigiosa e invece lui è veramente una grande carica umana, quando discutemmo del quotidiano, come farlo, come impostarlo, veramente un vulcano anche di idee, un vulcano mite, questa era la cosa, la mitezza, una mitezza nella quale però si intravedeva e si vedeva una grande fermezza di ideali, quegli ideali di cambiamento, di giustizia nella società a cui lui è rimasto sempre coerente e fedele. Professore, nella rivista Infiniti Mondi, che ha dedicato un numero monotematico a Pietro Greco, c'è anche un suo contributo? Sì, perché quando si parla di Pietro Greco, chi ci conosceva insieme non può fare a meno di chiedermi qualche cosa, io sono ben felice che questo avvenga, perché mi rafforza nel ricordo e nell'amicizia che è stata molto, molto densa. In questo articolo che cosa, io cerco di ricordare alcune sue caratteristiche, tant'è vero che comincio col dire Pietro Greco chi era, è difficile, è difficile individuare una definizione, ma c'è una che però sono riuscito a costruire su tutte, a tutte lettere Pietro Greco era un amico, era un amico di tutti, ma aggiungo, di tutti quelli che se lo meritavano, non tutti se lo meritavano, ma lui con garbo a questi che non lo meritavano, non diceva niente, li metteva da parte, punto e basta. Pietro Greco è stato, come molti riconoscono, un grande comunicatore, un comunicatore di scienza, ma bisogna stare attenti, io, anche io sono un comunicatore, nel senso che leggo, imparo e dico a terzi, scrivendolo, parlando. Pietro Greco faceva questo però sapendo quello che diceva, non se lo doveva imparare, non doveva leggere e quindi conosceva quello che diceva e conosceva le persone. Di conseguenza quando si organizzava una cosa, lui sapeva benissimo a chi rivolgersi e le persone alle quali si rivolgeva, chiedendogli, chiedendogli un contributo, non dicevano mai di no. Il giornalista che ha vissuto e raccontato anche la politica regionale e nazionale di origini ischitane. Sì, sì, e lui non ha mai tradito le sue radici ischitane, anche se i genitori hanno di origine calabrese, ma un anche se che non significa niente. Per caso, per così è nata Ischia e si è sentito subito ischitano, tanto da arrivare anche a tentare, una cosa che non gli è riuscita, la facciamo insieme, il riconoscimento di Ischia come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Non è stata mai presentata questa richiesta perché è molto difficile, adesso per altri vedi si sta tentando, ma quella è una delle poche cose che ha tentato inutilmente di portare avanti. E magari proprio nel nome di Pietro Greco questa iniziativa potrebbe essere ripresa? Questa iniziativa certamente sarà ripresa, lo sarà per un ambito molto più ristretto rispetto all'intera isola perché non ha trovato molto consenso. Ecco, nel resto, ma quindi si concentrerà per così dire in una piccola area, piccola geograficamente ma molto importante dal punto di vista storico, scientifico, archeologico che riguarda il castello e l'area circostante. Ecco, dico, non sono autorizzato a dire di più. E si spera che in questo l'UNESCO, io dico una cosa, l'UNESCO non avrebbe bisogno di essere stimolato a riconoscere attraverso una serie di carte, eccetera, che Ischia potrebbe diventare il patrimonio dell'UNESCO. Perché dovrebbe di sua iniziativa dire, ma com'è, non lo è ancora. Vabbè, certo sarebbe molto bello se questa iniziativa poi sfociasse in un'area dedicata a Pietro Greco. Come si rapportava ai giovani colleghi un punto di riferimento del giornalismo come Pietro Greco? Guardi, Pietro è stato un insegnante nel DNA, per così dire. Lui ha fondato una cosa che si chiama Scienza, Scuola e Società. Ecco che sono tre tappe di un itinerario che ha seguito per tutta la vita. E scuola, i giovani sono stati un'importante presenza. Tutti i convegni che ha organizzato anno dopo anno ad Ischia avevano sempre un riferimento negli studenti ai quali lui chiedeva di parlare, lui in prima persona, e tutti quanti ci coinvolgeva anno dopo anno su una tematica che ci suggeriva e che aveva poi negli studenti un grande impatto. Presidente, un numero monotematico della rivista Infiniti Modi dedicato al collega Pietro Greco. Sì, ho avuto la fortuna di conoscere quando guidava la redazione dell'articolo, che era poi la redazione napoletana dell'unità, che è stata un'esperienza molto bella, intensa, purtroppo un'esperienza breve perché gli imprenditori avevano calcolato un po' male le prospettive e non c'era un piano a lunga scadenza. un uomo di grandissima cultura che però ti metteva a tuo agio appena tu lo incontravi, lo conoscevi, lo conobbi appunto proprio nella redazione quando andai a trovare lui e tutti i ragazzi dell'epoca, Massimiliano Amato, tantissimi amici, Montanaro, Gualfardo Montanari, Antonio Montanaro, Fabio Iannicello, tanti, Ilaria Perrilli, c'era una bella redazione che è durata poco. Peccato perché era un giornale che puntava molto sulla riflessione, sul pensiero critico, sulle idee, lo spazio ci sarebbe stato, però non c'è un ragionamento di largo respiro. Un giornalista dedicato alla scienza che ha lasciato un buon ricordo. Che ha lasciato un ottimo ricordo, un giornalista culturale, la sua esperienza a Napoli purtroppo è stata breve, ma lui ha lasciato comunque un segno indelebile e bene ha fatto infiniti mondi a dedicare proprio un numero speciale interamente su Pietro Greco, un bellissimo regalo non solo per il Natale, ma per la memoria, per la memoria storica di questa città e dell'informazione. Un weekend speciale a Napoli, alla Basilica di San Lorenzo Maggiore con la settima edizione del Christmas Gospel Concert, una manifestazione dedicata al gospel, uno stile di canto che abbiamo iniziato a conoscere tanti anni fa e che ormai, sebbene sia assolutamente americano, è entrato nell'immaginario collettivo non solo grazie al film Sister Act, ma anche grazie al fatto che tanti artisti gospel sono arrivati in Italia da tanti anni a portare questo stile di canto così carico ovviamente di preghiera molto molto intensa, non dimentichiamo che gospel significa proprio Vangelo, parola di Dio, impossibile scindere lo stile gospel dalla musica sacra e allora noi siamo stati nella Basilica di San Lorenzo Maggiore per questo importante evento, un importante evento che aveva anche un legame con Ischia e con Teleischia che scoprirete nel corso del servizio. Vediamo. Padre, la Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli ospita il concerto natalizio del coro gospel. Allora, è una tradizione che è nata, ormai abbiamo sette anni, è un momento di incontro, di allegria, anche di ringraziamento al Signore. Quest'anno, sapete meglio di me, è stato un anno molto difficile e abbiamo vissuto con il popolo questo momento di sofferenza ma anche di morte e quando si è riproposta la domanda, lo facciamo, lo spettacolo, veramente con qualche dubbio, più che dubbio, paura, detto sì, perché dobbiamo dare alla gente un messaggio di vitalità, di allegria e di speranza e quindi si è andata avanti. Un passo avanti importante rispetto all'anno scorso dove la situazione era molto precaria e di fatti il concerto venne fatto solo in streaming mentre ora vediamo il pubblico alle sue spalle. esatto, cioè l'anno scorso veramente erano pure partecipate, la verità non per niente non era quello che volevo nel senso che la presenza cambia tutto per le persone e anche per chi suona, chi canta e chi dà messaggi e quest'anno abbiamo riprovato non solo ma siamo stati anche benedetti da Dio perché un po' di timore e chiusura più che altro, c'è, speriamo che non capiti però credo che con questa nuova variante ci potrebbe essere questo. Padre il concerto del coro gospel non è solo spettacolo, arte e cultura ma anche beneficenza. Sì, il Signore a me mi ha dato una cosa molto importante cioè di fare, di vivere 14 anni proprio in Africa in missione, poi per un periodo sono inundato per le missioni e c'è perché nelle Filippine c'è una bella clinica piccola quando vuoi ma bella perché lì c'è un problema molto serio, la salute è privata, cioè varo a dire se c'è i soldi con la carta di credito riesce, altrimenti viene da fare. Noi l'abbiamo fatto e adesso si continua piano piano con tutte le difficoltà e veramente già ho preceduto gli eventi. la settimana scorsa ho fatto l'assegno di 10.000 euro mi ha dato perché c'è da sopravvivere. Poi credo che la Chiesa, tutti quanti, siamo in comunione, comunione anche con una parte del mondo che certamente non vive momenti belli. Settima edizione del concerto natalizio coro gospel qui nella Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli. Sì, settima edizione bellissima, per noi è il quarto anno che partecipiamo a questo evento straordinario, ci riempie l'anima, il cuore, è veramente l'evento più atteso qui nella città nel periodo di Natale per poter ascoltare il gospel, quello vero che viene dall'America e anche quello che facciamo noi qui nella nostra terra, insomma, umilmente, ma con tanta tanta dedizione e tanto amore. Quante voci durante il concerto, voci nostrane, ma come si diceva anche di lingua inglese. Sì, 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 ci sono i Millennium Choir, siamo noi, Rita Ciccarelli con i flowing gospel il mio coro e soprattutto c'è insomma una grande, grande voce nostra italiana che è Carima e insomma veramente, veramente quest'anno una settima edizione pazzesca. Una settima edizione bella anche perché quest'anno c'è il pubblico. Quest'anno c'è il pubblico, sì, un'emozione enorme, veramente, veramente un'emozione fortissima. L'anno scorso forse molti di voi ci hanno guardati online, quest'anno possiamo guardarvi negli occhi e possiamo godere della vostra partecipazione e quindi veramente, veramente un'emozione enorme, grazie. Ci puoi spiegare cosa c'è dietro il coro gospel, il lavoro che fate di preparazione? Sì, un grande lavoro, un lavoro che noi facciamo quotidianamente, siamo veramente sempre in contatto per rinnovarci, per imparare nuovi canti, ci vediamo costantemente, una volta a settimana proviamo, sotto il tour di Natale ci vediamo anche più volte durante la settimana. C'è un lavoro enorme ma soprattutto c'è un grande lavoro umano perché questa musica ha bisogno di tanta umanità, di avere un legame forte tra le persone, altrimenti insomma la sua vera energia non arriva. Il tuo canto preferito? Il mio canto preferito è un canto che si chiama Change Me, che è un canto proprio gospel americano, cantato da Tamela Mann, una grandissima worshiper americana. e dice appunto signore cambiami, cambiami e rendimi sempre più simile a te, puliscimi e fai in modo che io possa camminare per la tua via come tu desideri. Da Napoli a Dischia il primo gennaio vi esibirete a Forio. Sì sì, il primo gennaio abbiamo ben tre concerti a Dischia, uno a Forio, no due a Forio probabilmente, e uno a Panza, dico bene? Sì, quindi ci vediamo il primo gennaio a concerto a Dischia, non mancate, Vita Ciccarelli e Flowing Gospel, saremo felicissimi di essere lì sull'isola. Sergio Noviello è l'organizzatore della settima edizione del concerto gospel di Natale alla Basilica di San Lorenzo Maggiore di Napoli, due giorni, tre spettacoli, che bilancio fa? Un bilancio più che positivo, diciamo che l'abbiamo rischiato, ci siamo buttati in questa avventura in questo periodo difficile di Covid e in un momento abbiamo temuto che qualcosa non andasse bene che poteva saltare lo spettacolo, invece ci è andata bene, abbiamo fatto un sold out tutto pieno e quasi due sold out, quindi pienamente soddisfatti del risultato, la gente ha risposto, abbiamo avuto complimenti da tutti, ecco, vedete dietro di mille persone che se ne stanno andando e più che soddisfatto. Passa a seguire le regole, mascherina, green pass e questa volta non siete stati streaming ma dal vivo? No, naturalmente mascherina, green pass, sanificazione prima dello spettacolo per mettere tutto a norma e per rendere lo spettacolo sicuro. Naturalmente, come dicevo prima, stiamo in un momento difficile, facciamo la nostra parte come organizzatori e come organizzatori di eventi, dobbiamo per forza, ma per forza diciamo non è un nostro, cioè ci fa piacere rispettare tutte le regole per far sì che le persone siano al sicuro. C'era voglia di stare insieme, c'era voglia di ascoltare anche buona musica da parte del pubblico? Dopo un anno e mezzo di stop, di eventi fermi, di vita notturna bloccata, le persone vogliono vivere, vogliono uscire, vogliono emozionarsi e vogliono in tutti i modi vivere, come dicevo prima, sì, vivere. Un cast di livello con artisti anche di respiro internazionale? Sì, ogni anno comunque noi cerchiamo di portare, diciamo questa settima edizione, ogni anno cerchiamo di portare degli artisti internazionali. Il gospel è americano e quindi il primo gruppo che cerchiamo di far venire sono gruppi americani. Come dicevo prima, in questo periodo è difficile far venire delle persone, degli artisti da fuori. Sì, questa volta ci siamo riusciti a portare Maesha e il gruppo americano. L'intera squadra che lei ha coordinato in questi giorni ha anche il nostro collega di Teleischia, Claudio Iacono. Claudio, io dico sempre squadra vincente non si cambia. Claudio sta con noi da penso 4-5 edizioni, quindi è il nostro presentatore ufficiale e sicuramente ci saranno altre date con lui. Ultimo capitolo, ma non per questo meno importante, la presentazione di ieri pomeriggio, lunedì ad Ischia, del nuovo libro di Valeria Di Meglio, Amma Cucenà, un libro dedicato a ricette e storie di cucina direttamente dall'isola di Procida, la presentazione alla biblioteca antoniana con Ciro Cenatiempo. Con questo ci salutiamo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciro Cenatiempo alla presentazione di Amma Cucenà, certo un amore, quello tuo nei confronti della cucina che oggi ha visto aggiungersi un altro capitolo. Sono molto soddisfatto, abbiamo battezzato questo libro scritto da Valeria Di Meglio, una procidana di origini antiche, ischitane, che considera Ischia e Procida due isole sorelle. Valeria non vive a Procida e vivendo in Francia in questo periodo ha cominciato a scrivere un blog che si chiama Amma Cucenà nel quale ha raccontato tutto lo scibile familiare, le storie del padre, della madre, delle nonne, storie di cibo, di amore, di affetto, storie rurali, perché la sua procida, la procida di Solchiaro, è una procida agricola. Un libro affascinante, molto empatico, veramente un libro da mangiare. Le ricette sono soltanto il contorno di storie, aneddoti, suoni, odori, memorie olfattive e memorie che emozionano. Ti posso chiedere, è in questa direzione che deve andare il mondo dell'editoria, il mondo dei libri? Perché sembra che ci sia questa ricerca del cibo un po' in tutti i campi, anche dal punto di vista editoriale. La cucina è un filone molto attivo. La cucina è un filone attivo a patto e condizioni che si racconti in questo modo. Le storie di narrazione, Valeria lo dice, io rivendico la soggettività della narrazione. Lei è la protagonista di queste storie, da bambina e poi da adulta, e rivendica a sé il fatto che sia lei a scriverne. In genere i libri di cucina sono scritti da studiosi, ma non sono scritti da quelli che cucinano sul serio, perché le ricette vengono confezionate insieme ad altri. Allora, l'effervescenza di questo libro, di Amma Cucenà, è anche la sua originalità. Un libro unico perché non sposa le mode, non va nel mainstream dei libri di gastronomia e molto di più è un piccolo trattato di antropologia, è un piccolo trattato di memoria vivente e ci racconta la necessità, appunto perché c'è un grande boom dei libri di cucina, ma non da adesso, da tanti anni, del resto c'è una sorta di trattoria mediatica, ci racconta la necessità di conservare un rapporto con il cibo che sia univoco e allo stesso tempo collettivo. La convivialità è vivere insieme e questa ci aiuta a superare la solitudine anche della pandemia. E lo vediamo in primo piano, Amma Cucenà, il libro di Valeria Di Meglio, un cognome che tradisce origini ischitane. Partiamo da qui. Sì, il cognome Di Meglio è il cognome di mio nonno paterno che era di Ischia, ma io sono procitana da generazioni, nata a Napoli perché insomma negli anni 70 non era possibile nascere a Procida, vivo a Lille in Francia da vari anni, però torno molto spesso a Procida, ci passo lunghi periodi, soprattutto da quando c'è la pandemia, riesco ad essere in smart working per lunghi mesi. L'idea di mettere insieme tutte queste ricette, tutte queste storie di cucina in buona sostanza, come nasce? Allora, l'idea nasce da un blog che io ho creato nel 2019 per condividere ricordi di famiglia legati alla cucina, quindi soprattutto sollecitando mio padre, mia madre e poi anche riportando ricordi miei di bambina. E quindi ogni ricetta è legata a un aneddoto, a un ricordo, quindi non è un semplice libro di ricette, ma ha uno sguardo molto più ampio, diciamo. Uno sguardo molto ampio che guarda alla tradizione procidana, perché in buona sostanza ogni territorio, verrebbe da dire quasi ogni contrada, se prendiamo ad esempio le isole di Procida e Ischia anche, hanno quelle tradizioni che sono proprie? Sì, ci sono tradizioni proprie all'isola, tradizioni proprie ad alcune zone dell'isola, ci sono tradizioni legate ad alcuni riti dell'isola come il Venerdì Santo, San Giuseppe, San Biagio, Natale. E poi un altro sottotitolo del libro è Atmosfere, quindi si parte dalla tradizione poi per ricreare anche delle atmosfere, delle atmosfere che possono essere ricreate o tramite queste ricette tradizionali o tramite i valori legati alla cucina che sono stati ereditati da chi ci ha preceduto. Atmosfere che poi si possono ricostruire anche in altri posti, quindi io mi sono ritrovata all'estero e dovendo poi riportarmi a Procida con la memoria ho cercato di ricostruire ricette in loco, tipo quando dovevo passare Natale fuori, quando non potevo tornare, insomma. Quindi la cucina è un legame forte e la lingua è un legame ancora più forte, perché nel libro sono molto presenti espressioni in lingua procidana, ci ho tenuto a mantenerle proprio in modo originale, a trascriverle con la traduzione poi per chi non capisce la lingua. Va bene le ricette, va bene la lingua, però immagino che a Lille, per esempio, non sia così facile riproporre una ricetta procidana, perché ci vogliono anche gli ingredienti. Vediamo ad esempio i limoni sulla copertina del tuo libro, ma non solo i limoni, ecco. Sì, è difficile ritrovare ingredienti che ci riportano a Procida direttamente, quindi per alcune ricette è veramente indispensabile un soggiorno prolungato sull'isola. Ci sono ricette che si possono riprodurre, tipo banalmente la pizza di scarole, o il baccalafritto, tipo se uno si ritrova a passare Natale fuori, ma ci sono altre ricette tipo con vegetali molto specifici di Procida che non sono reperibili altrove.